Ciao, come stai? Hai finito di fare shopping Girano pochi soldi Io faccio lavoro uile Non come te che sei sempre mantenuta qualche gioco a verona Sai, che tipo strano oggi ha il telefono Pretendeva che mi drogassi con lui di gusto C'è tanta gente esaurita in giro Sì, hai ragione Ti va di parlare passeggiando? Sì Sai, ho avuto un po' di paura In parte volevo scoparci gratis Sì, così magari faccio di la fine di Mario Santi Quello molto odioso di reggente Madonna È vero Sai che effettivamente sarebbe stato pericoloso Non ci pensare più Conosci il tuo nome o dove vivi? No Se fai un po' di paura Non ci pensare più Pericoloso Non ci pensare più